Rex Van presenta Pergem RZ, la nuova varietà di melone eretato italiano. Con Pergem è tutta un'altra musica. La varietà infatti si posiziona in un trapianto difficile, quello del pieno campo tardivo e per le sue caratteristiche si adatta benissimo anche in trapianti di serra di secondo ciclo. Nel trapianto di pieno campo tardivo non è scontato ottenere il giusto calibro dei frutti e un'adeguata qualità. Pergem risponde a queste esigenze. È la naturale continuazione della varietà Solgem RZ e ne riprende alcuni punti di forza, quali per esempio la pianta vigorosa, ben comprente, rustica, supportata anche da un pacchetto resistenze completo, adoidio ed affidi. Un'ottima capacità di allegagione, quindi una grande potenzialità produttiva. Il giusto calibro dei frutti abbinata ad un ottimo standard qualitativo. Abbiamo intervistato chi ha testato la varietà. Sentiamo cosa vi dice. Noi siamo un'azienda agricola specializzata nella produzione di meloni e angurie fin dai primi degli anni 80. Lavoriamo circa 40 ettari di meloni e anguria e circa 200 serre. Coltivare a pieno campo sta diventando sempre più difficile a causa dei cambiamenti climatici che da un'annata all'altra riscontriamo variazioni di siccità, bombe d'acqua, precipitazioni importanti, grandine che stanno mettendo a repentaglio la produzione. In virtù dei cambiamenti climatici la varietà Pergem rispecchia le nostre esigenze perché abbiamo notato che è una pianta molto rustica, resistente ad affidi ed oidio. Ha un'ottima produzione, è un calibro molto omogeneo con una sottura molto verde del melone e un briggs sempre costante. Le tre cose che mi hanno colpito di più di questa varietà sono la rusticità, la sanità di pianta e la resilienza. Cioè che nonostante le avverse condizioni ambientali mi ha permesso di portare a termine l'intera produzione.